Se trovassi le parole, direi certo una bugia, ti direi che solamente è colpa mia. Ho superato quel confine che nessuno mai saprà, adesso che si fa. Se non fossi così bella, più di ogni fantasia, troverei la forza di buttarti via. Fare a meno del mio nome, fare a meno anche di te, ci provo e sai com'è. Impossibile, impossibile, senza te e con te non so vivere. Siamo angeli in prigione, in un posto che non c'è, far l'amore ancora per l'ultima volta. Puoi tornare come un cane, da chi aspetta solo me, ci provo e sai com'è. Impossibile, impossibile, senza te e con te non so vivere. Tracce d'amore, lividi al sole, tutto rimane chiuso qui. Lassami andare, io non lo so fare, è impossibile. Impossibile, impossibile, senza te e con te non so vivere. Impossibile, 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 impossibile. Vengo veramente a riposentarvi, Antonio Petrizzelli, Roberto Guaddi. Eros Cristiani, Franco Ceccanti, Messier, Liceo Fabri, Andrea Anzalone. Grazie. E io passerei giusto di qua, Matteo, se non ti dispiace per salutare, così lo faccio durante il programma. Buonasera, Lucia. Tutto bene? Benissimo. Che piacere vederti. No, adesso vado avanti, è che non avevo avuto modo prima e quindi volevo ringraziarti per essere ancora una volta su questo palco. Caro Matteo, grazie, ho sentito tanti applausi, tanta felicità e quindi insomma... Grazie, no, grazie a te, grazie a Radio Italia, veramente di cuore e al pubblico. Al pubblico, no, al mio pubblico. Al pubblico in generale. Grazie. Matteo, Radio Italia Live si chiude con un rito che peraltro io amo molto, ovvero un omaggio, una scelta musicale un po' particolare. Un omaggio alla musica italiana, quindi io ti chiedo cosa hai scelto e perché? Beh, ho scelto una canzone, una delle poche cover che facevo in italiano prima di andare a X Factor, è una canzone a cui sono molto legato e è Pensiero Stupendo, perché... Vabbè, vedo che è piaciuta io, Andrea. Quindi tu niente. No, perché, diciamo che senza i pensieri, senza i bei pensieri non si fa niente, penso, nella vita, no? Non si va da nessuna parte, hai perfettamente ragione. Quindi su questa canzone, allora io intanto prendo questo, così tutti avvicini al microfono delle canzoni. Ringrazio il pubblico dell'auditorium, il pubblico che ha ascoltato e guardato Radio Italia Live, vi do appuntamento a Fra Sette Giorni e questo è Pensiero Stupendo, Matteo Beccucci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire no. E tu e noi e lei fra noi vorrei, 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 lei adesso sa che vorrei. Le mani, le mani, le sue, poco a poco a poco noi due, vorrei, per amore, per ridere, dipende da me. Le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani, questa volta sei tu e lei, e lei a poco a poco di più, di più, vicini per questione di cuore, se così si può dire. E tu e lei, e lei, e lei, e lei, e lei un'altra volta fra noi, fra noi, fra noi. Pensiero Stupendo. Pensiero Stupendo, nasce un poco strisciando. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Grazie. Grazie. Buonanotte. I rimasti. E non Ilari Quartes. Grazie. Ciao. 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 Ciao.